Nuovo incarico, dottor Conte Corvo, alla questura di Trapani. Che tipo di incarico lei andrà a ricoprire? Sono stato assegnato alla questura di Trapani dove andrò a ricoprire l'incarico di vice capo della squadra mobile. Cosa porterà di Gela a Trapani? Un'esperienza professionale esaltante ed umanamente gratificante. Un bagaglio importante per la mia prossima esperienza. In questi anni di esperienza a Gela cosa ricorda con particolare attenzione? Tantissimi ricordi positivi, tutte le operazioni di polizia giudiziaria e gli arresti che abbiamo fatto, i rapporti con l'autorità giudiziaria e con la cittadinanza tutta, formativi e totalizzanti da tutti i punti di vista. E cosa le rimarrà impresso nella mente della nostra città? Quando arrivai qui a Gela tre anni fa l'immagine che mi venne dipinta era un'immagine assolutamente negativa. E con me invece ricordo Porto un'immagine positiva e propositiva. Una città che ha orgoglio, che ha dignità e che ha tutte le carte in regola per continuare questa attività e operazione di riscatto ormai irreversibile. E il ricordo dei suoi uomini al commissariato qual è? Un ricordo magnifico. Il mio pensiero va certamente all'oro perché i successi che abbiamo raggiunto li dobbiamo grazie all'oro. La fortuna dei prossimi funzionari che prenderanno il mio posto sarà proprio questa, quello di trovare un ufficio sano che ha tutte le risorse per poter continuare questa attività in modo esaltante. E a Trapani andrà a trovare chi ha già diretto il commissariato di Gela, ci riferiamo al dottore Gatano Cravana. È un incarico di prestigio quello che il dottore Cravana riveste a Trapani. Evidentemente il ministero ha riconosciuto la bontà del suo lavoro anche qui a Gela. Primo obiettivo, dei poliziotti che lavorano a Trapani, la cattura del boss dei boss Matteo Bessina Teraro. Troppo pesto in questo momento per parlare di questo. Ci sarà a tempi da lunedì, sono a disposizione del questore e del dirigente della squadra mobile. Qualunque sia l'obiettivo, anche affascinante, io sarò pronto. Qualunque sia l'obiettivo, anche affascinante, io sarò pronto.